Ciao ragazzi, spesso ce lo chiedete. Maschere o occhiali in mountain bike? Quali sono i pro e i contro? La sicurezza è un aspetto fondamentale quando si pratica la mountain bike. Oltre ad un casco protettivo, è importante anche considerare la protezione degli occhi durante le escursioni in bicicletta. In questo video esploreremo le differenze tra l'uso di occhiali e maschere da mountain bike, analizzando i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le opzioni. Scopriremo quale scelta potrebbe essere la migliore per garantire una protezione adeguata durante le tue avventure in mountain bike. Gli occhiali da mountain bike sono amati da molti ciclisti amatoriali per la loro leggerezza e convenienza. Sono facili da indossare e offrono una protezione di base per gli occhi. Tuttavia è importante considerare alcune limitazioni associate all'uso degli occhiali. Una delle principali limitazioni degli occhiali da mountain bike è la loro struttura rigida. In condizioni impegnative potrebbero non offrire una protezione completa contro detriti, fango e insetti che potrebbero colpire gli occhi. Inoltre gli occhiali possono scivolare o cadere durante situazioni estreme, mettendo a rischio la sicurezza degli occhi del ciclista. Le maschere da mountain bike, d'altra parte, sono la scelta preferita dai professionisti per una serie di motivi. Le maschere offrono una protezione estesa grazie alle loro montature morbide, che si adattano perfettamente al viso del ciclista. Questo assicura una maggiore protezione contro detriti, fango e insetti che potrebbero colpire gli occhi durante le escursioni in mountain bike. Una delle caratteristiche più importanti delle maschere da mountain bike è la stabilità che offrono. Le fasce elastiche delle maschere evitano lo scivolamento durante gli urti, garantendo una protezione costante degli occhi del ciclista. Inoltre, le maschere si integrano perfettamente con i caschi da mountain bike, fornendo una protezione complessiva per la testa e il viso del ciclista. Le maschere da mountain bike offrono anche una visione chiara durante le escursioni. Riducono il riverbero e l'appannamento, garantendo una visione nitida anche in condizioni di luce intensa o umidità. Inoltre, le montature e le lenti morbide delle maschere prevengono graffi e contusioni in caso di impatto, fornendo un'ammortizzazione aggiuntiva per gli occhi del ciclista. Quando si tratta di sicurezza in mountain bike, le maschere sembrano avere un vantaggio significativo rispetto agli occhiali. Offrono una protezione estesa, stabilità, visione chiara e ammortizzazione in caso di impatto. Questi vantaggi fanno delle maschere la scelta ideale per i ciclisti che desiderano proteggere adeguatamente i loro occhi durante le avventure in mountain bike. Tuttavia, la scelta tra occhiali e maschere dipende anche dalle preferenze personali del ciclista e dal tipo di terreno su cui si pratica la mountain bike. Alcuni ciclisti potrebbero preferire gli occhiali per la loro leggerezza e convenienza, mentre altri potrebbero optare per le maschere per una protezione più completa. In definitiva, è importante riflettere sulla propria protezione e considerare un passaggio alle maschere da mountain bike per garantire la massima sicurezza degli occhi durante le escursioni in mountain bike. Scegliere la giusta protezione per gli occhi è fondamentale per godersi appieno l'esperienza in mountain bike in modo sicuro e senza preoccupazioni. A voi i commenti. Se questo video ti è stato utile ricordati di lasciare un like ed iscriverti al canale perché nel prossimo video parleremo di...